Nuovo arresto oggi per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Marotta, infatti dopo alcune indagini e pedinamenti di un sospetto pusher, hanno sottoposto a controllo due persone viste uscire dall'abitazione dell'uomo. Dal controllo i clienti sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e marijuana. I due si sono dichiarati subito consumatori occasionali e segnalati per questo alla prefettura locale. Poco dopo l'irruzione nell'abitazione dell'uomo con uno stratagemma è stato invitato ad uscire di casa sottovalutando però la reazione della compagna all'interno, pronta a gettare nel bagno parte dello stupefacente ma bloccata in tempo. Sequestrati così 50 grammi di marijuana, 3 di hashish, 10 di cocaina e materiale da taglio e confezionamento. Per il 33enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto in flagranza di reato e condotto in carcere.